Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video e come c'è detto dal titolo oggi il video del media book tag in realtà la versione che porterò oggi rispetto agli anni scorsi è una versione reinventata da Andrea Belfiori che è un booktuber, un altro, lui è uno dei più famosi che io conosca di booktuber Italia vi lascerò il suo canale, il video che fa appunto lui, questo è una scatola di informazioni non ho bisogno di presentazioni secondo me, però magari non tutti lo conoscono mi è piaciuta tantissimo questa versione diversa rispetto al media freakout book tag è giusto appunto di scrivermi tutte le domande, perché io sono ancora così e rispondervi a queste domande, ovviamente siamo andati a metà anno quindi è giusto fare questo punto della situazione delle letture dell'anno è un disastro allora miglior libro letto finora quest'anno ce n'è uno ce n'è uno che è stato il più bello ve l'ho già detto nel wrap up per me è il migliore di tutti sto parlando dell'empoio dei piccoli miracoli di Kiki Kashino ho detto dalla spelling and caffè per un costo di non lo so perché c'è l'etichetta sopra per me questo libro più bello ho letto finora ovviamente siamo metà anno quindi io adoro bellissimo ce l'ho letto di una sola giornata l'ho letteralmente divorato a questo concatenarsi di passato è passato sicuramente di passato e presente in una maniera che veramente coinvolge tantissimo io l'ho veramente estramato è il più bello per ora poi libro peggiore peggiore libro letto finora quest'anno libro ne ho due è stato veramente difficile scegliere perché in realtà ci sarebbe anche un terzo libro però ne metto due allora per ora dico la donna dei miei sogni di Nicolas Borreau che io non ho più perché l'ho suscita ad anno via quel libro era veramente un insulto per me era un insulto era letteralmente un insulto però di questo ragazzo che diciamo pur di diciamo incontrare l'anima gemella secondo lui si stava per sposare quest'anima gemella che lui non lo conosceva neanche si presenta addirittura in tutte le chiese che conosce nel suo paese adesso non mi ricordo se è ambientata in Francia forse ambientato non mi ricordo ok nel paese del Francia per cercare sta sposa e dire di non sposarsi cioè io veramente ho letto delle cose per me quello non è romanticismo non lo è un altro libro che ho veramente schifato tantissimo è stato un libro della Anna Premoli in realtà quest'anno due di Bela Anna Premoli mi hanno fatto abbastanza schifo uno è finché amore non ci separi appunto della Premoli questo è stato dalla King Newton Compute Edition per un costo di 35,90 euro lo stereotipo dello stereotipo dello stereotipo proprio la protagonista lui è il solito un veloce di turno la protagonista la solita che se la tira ma potrebbe anche non tirare perché non ha senso che se la tiri e soprattutto è senza senso sta rincoglionita di protagonista si presenta un lavoro forzato perché deve fare lavoro forzati per un determinato motivo i vestiti firmati alle 5 del mattino con la giacchettina leggera che c'è un freddo porco e le scarpette eleganti questo è avere a che fare non è un libro brutto perché è brutto ma perciò un protagonista che non esiste sul cioè io penso che non esiste veramente sulla faccia della terra una rincoglionita tale e una proprio boh io no non ce l'ho proprio fatta non ce l'ho fatta terza domanda quanti libri ho abbandonato senza averli finiti 5 mi sembravano di più in realtà solo 5 mi sembravano di più boh non so poi quarta domanda miglior graphic fumetto manga letto fino ad ora quest'anno ne ho 3 3 allora penso che ce li vedete tutti perché ve ne ho già parlato nei wrap poi ve ne parlo ovunque io con uno diciamo barro un pochino perché in realtà l'avevo già letto anni e anni fa e sto parlando di Mars il primo è Mars io non dico 3 perché si premanga il primo è Mars perché secondo me è l'opera più bella che esiste sul pianeta terra della Fuyo Misorio o comunque è uno degli shojo più belli in assoluto più non neanche una shojo è proprio un'opera proprio un'opera con la O maiuscola quindi ecco per me questo e altri manca che vi che dire che mi ci sono tantissimi ovviamente Magus Magus ciao posso fare Atelier of WeChat e Sunset Light forse direi più Mars Sunset Light però anche lui è stato veramente uno di quelli che mi ha preso subito tantissimo è stato molto molto recente questo forse è quello che più mi ha sconvolto perché non mi aspettavo assolutamente nulla da questo manga in realtà è stato un sacco di roba un sacco di cose nuove esperienze nuove direi anche nell'ambito dello shojo perché cose del genere non le avevo mai viste mai provate e come riesce la Makisami a fare queste storie non ci riesce nessun altro secondo me sono un po' diverse la protagonista tra l'altro mi sta parecchio simpatica perché quelle che si fa vedere che è un po' tutta cazzo tutta imbronciata e poi in realtà nasconde un lato molto tenero però non vuoi farlo vedere ecco mettiamola così poi quanti libri sono entrati a far parte della tua libreria dell'inizio dell'anno 43 mi viene veramente male il pensiero 43 libri di quanti libri ti sei liberato per quanto riguarda quelli che avevo diciamo di cui 43 8 me ne sono liberata perché li avevo già letti non mi sono piaciuti o vari motivi me ne sono liberata poi ce ne sono anche altri mi sono che ci sono 3 o 4 che però sinceramente non mi ricordo adesso che non c'è la mia libreria e me ne sono liberata perché non li volevo assolutamente più nella mia libreria poi 7 quale pensi sarà il tuo prossimo acquisto e il mio prossimo acquisto sta arrivando ho fatto l'ordine due giorni fa su IBS e quindi non vi dico nulla perché se non potrei farvi spoiler e se no volevo in realtà provare a girare tipo il video unboxing ma non so se riuscirò a girarlo vedo vedo se no non ho dato tutti nei video acquisti quindi non posso dire assolutamente nulla se non che anche quello a tema Giappone ops poi libro esteticamente più bello che hai comprato e ricevuto quest'anno lo so risponde a due domande lo so però non sapevo davvero cosa fare poi nove libro usciti di recente non ancora letti che vuoi leggere entro la fine dell'anno vi mostro questo anche se è un nuovo acquisto ovvero la cronaca dell'ascia del ciliegio di Camille Monceau edo dalla l'ippocampo però costi 15 euro e 90 non volevo recuperare questo libro non volevo assolutamente prenderlo però poi l'ho preso l'ho preso perché ho trovato usato cioè qualcuno l'aveva già letto su facebook e lo vendevo usato e ho detto scusa un secondo ve lo vorrei io non volevo però alla fine l'ho preso ho preso anche questa è molto bella ho preso tantissimo il lato così è molto 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 bello poi dieci prossime uscite ah in realtà c'è anche un altro libro che è uscito di recente che vorrei leggere appena mi arriva che è nell'ordine dbs e che vi ho detto che è tema Giappone ma non vi dico nient'altro prossimo uscite più attesa è una seconda parte l'anno e non ne ho idea anche perché io non so come fanno gli altri andare a vedere le uscite che ci sono prossimamente perché io le cerco su internet ma non trovo niente non trovo assolutamente niente cioè io spero nella stampa del nuovo libro l'uscita italiana del nuovo libro di dell'ultimo libro della saga del trono di ghiaccio ci spero ma non ci credo sinceramente ci spero ma non ci credo devo ancora leggere il trono dell'alba devo essere sincera non so perché mi sono confermata non l'ho più letto però ecco o magari anche il seguito di Christian City non sarebbe male poi ah adesso sarebbero praticamente finiti le domande qui ci sono due sei rischi che sono domande aggiuntive quali libri vuoi leggere entro la fine dell'anno allora ci sono tantissimi libri che vorrei leggere entro la fine dell'anno vorrei finire le saghe vorrei finire la saga dell'accademia dei vampiri la saga di Shadow and Stark Artificis spero di riuscire a leggere anche Catena di Ferro non sarebbe affatto male siccome l'ho comprato e sta là e devo finire appunto Dark Artificis assolutamente sono al secondo tra un po' l'avrò finito quindi magari riuscirò a leggermi anche il terzo quella saga vorrei riuscire a portare a termine anche Teore dell'alba della sala J. Musk che non l'ho neanche iniziato cioè non l'ho iniziato vorrei finire la saga di Red Sister non sarebbe affatto male vorrei finire il libro Sua storia della Corea anche quello non sarebbe affatto male anche se ho letteralmente un matonazzo veramente pesante quel libro però vorrei riuscire a finire anche quello poi vorrei iniziare le croniche di Camelot lo recupero si lo recupero si 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 e che ne ho lette nessuno cioè mi sono buttata sul Giappone e quindi Camelot è rimasta da un'altra parte e non ho più calcolato l'insericio ci sono tanti libri che ho venuto a leggere entro a fine dell'anno tipo molti libri della mia libreria sia di questa che di quell'altra però appunto vedremo e ultima domanda la dodicicesima sarebbe poi quanti libri hai letto per ora e quanti pensi che riuscirai a leggere in totale quest'anno io su The Goodreads ho fatto nuova la sfida a 100 libri non ci arriverò a districciare non è che io voglio arrivare per forza a 100 libri però come posso dire non è che ci vuoi arrivare per forza però metto sempre la sfida a 100 libri allora l'anno scorso eravate 78 quest'anno io però l'ho letto 34 libri cioè in realtà no sono 33 però Darker Tiffies mi mancano tipo 100 pagine quindi lo leggerò dopo aver finito di girare questo video quindi ho finito siamo a 34 e penso che quest'anno forse arriverà 60 70 siamo sempre lì comunque dipende molto da come andrà anche il mio blocco del lettore che un po' mi va e un po' via un po' ce l'ho e poi non ce l'ho quindi dipende molto dai momenti tanto la luce se ne va faccio ridere da sola e basta penso solo questo e niente ragazzi grazie per aver guardato questo video spero che il video vi sia piaciuto andate a vedere anche quello di Andrea che vi lascerò linkato e questo video ha durato veramente pochissimo non so se sono tipo io a parlare più velocemente oppure è proprio non lo so ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi